Ciao, la novità letteraria che ti presento è un romanzo in cui un imprenditore di successo deve affrontare gli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori. Scoprite come un futuro diverso può essere nascosto dietro ogni ostacolo, anche il più imprevisto. La trama del libro Disdici tutti i miei impegni di Luca Argentero, edito da Mondadori, è la seguente. La signora ora è davanti a me, mi guarda insistentemente dallo specchietto, accenna un sorriso tentando forse di ricambiare il mio, che di sicuro non è indirizzato a lei ma ai pensieri e ai ricordi dell'orgasmica serata di ieri a Milano, suite, amici, mignotte, additi bikini. La vita scintillante di Fabio Resti, imprenditore romano che traffica con successo nel business degli eventi aziendali, piomba nell'ombra più anonima quando riceve una inattesa telefonata da parte della Guardia di Finanza, l'ufficiale Belfiore deve consegnargli una urgente comunicazione giudiziaria che lo riguarda. Causa il possibile inquinamento delle prove, Fabio è costretto a disdire tutti gli impegni e a iniziare l'estate agli arresti domiciliari, a casa dei suoi genitori, in via di Valtellina, invece che a Formentera o in Salento. È un colpo durissimo, ma anche l'inizio di una piccola, personale rivoluzione. Il confino nell'appartamento dei suoi anni giovanili, l'osservazione dell'amorevole menage degli arzili genitori, l'ambiguo fascino di una ragazza che abita nell'appartamento di fronte, le sabbiose lungaggini della giustizia italiana, il diradarsi dei rapporti con colleghi amici e altri accadimenti e personaggi di contorno trasformeranno la cameretta di Fabio dal luogo di detenzione a trampolino verso un futuro diverso dal suo recente passato. Con le coinvolgenti disavventure di Fabio Resti, Luca Argentero descrive la sghemma parabola di una generazione che ha inseguito un mito edonistico a colpi di eccessi e di politicamente scorretto. Argentero esordisce in libreria con una storia originale e coinvolgente, che strappa risate e riflessioni, e procede tra dialoghi serrati e brillanti a soli psicologi. Lo fa inventando un personaggio lontano anni luce da sé, dai suoi gusti e dal suo vissuto privato. Ma, come succede nei romanzi ben riusciti, capace di gettare uno sguardo lucido e comprensivo. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.